Sì, sono molto contento di questo, è stata una vera battaglia contro una squadra molto attrezzata, come dicevamo nel pre-partita, sono contento che le ragazze hanno lottato veramente per 5 set su ogni palla, poi ci sta che ogni tanto sbagli, ogni tanto fai una bella azione, ma le ragazze non hanno mai mollato, e questo è importantissimo in chiave di tutto il resto del campionato. Qualche ramarico forse per quel 22-20 del quarto set, poi avete preso break di 4-0, quindi di fatto si è andato al tie-break. Sì, c'è sempre ramarico, possiamo sempre fare meglio, io però oggi vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno per una volta, dico che abbiamo lottato, abbiamo fatto anche tesoro di quello che è successo settimana scorsa, e anche nei primi set di questa partita, in cui non ci siamo persi d'animo anche quando le cose ci risultavano difficili, abbiamo sempre mantenuto lucidità e abbiamo portato a casa un bel risultato. Coach Mazzola, un buon punto conquistato qui dalla Millennium Brescia al termine di una partita emozionante, vincente, equilibrata, 16-14, alla fine per il Soverato comunque una buona prestazione delle sue ragazze. Allora, se dovevo dichiararlo prima della partita avrei dichiarato che il punto ci avrei fatto la firma, ma per come è andata la partita a un certo punto io speravo addirittura di tre punti, perché il quarto, vorrei rivederla quella palla lì sull'asta, com'era? In ogni caso un punto pesante in un campo difficile, considerando anche che nel quarto set a un certo punto siete stati anche sotto 22-20, però siete stati bravi a non mollare. No, ma è per quello che ho detto che io avevo fatto la firma per un punto, perché sapevo che il campo è difficilissimo, la squadra è molto forte, costruita per vincere il campionato, quindi alla fine dobbiamo andare a casa molto contenti del punto preso e non dobbiamo rammaricarci più di tanto di quello che poteva essere. Va bene così e pensiamo subito a Caserta. Stanza Manfredini è una delle protagoniste di questa vittoria entusiasmante, ma molto sofferta del Soverato contro un ottimo Brescia, una partita dove non avete mai mollato, anche nei momenti difficili, a un certo punto al cambio di campo al Tiber che eravate 4-8, una situazione difficilissima, però non vi siete resi. Sì, sicuramente. Diciamo che dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato molto. Io in primis mi taglierei le mani per quella battuta nel quarto set, giuro, però abbiamo dimostrato tanto carattere e penso che questa sia la cosa fondamentale dopo l'inizio di campionato che abbiamo avuto noi, perché riprendere una partita in cui abbiamo sofferto molto, in cui siamo stati sotto per gran parte dei set, è stato molto positivo. Io sono molto contenta del lavoro delle mie compagne, dell'allenatore, quindi per me sono due punti guadagnati e non ho perso. Probabilmente oggi il passo in avanti è stato fatto dal punto di vista del carattere, dell'intensità anche perché la squadra in ogni caso ha lottato su tutti i palloni e poi il pubblico ha fatto la sua trascinandovi fino alla fine. Sì, esattamente. Diciamo che la cosa più importante è stata la reazione, il carattere, la voglia di andare su tutti i palloni e il gioco di squadra, io penso. Poi il bel gioco, secondo me, verrà col tempo, nel senso che con gli allenamenti giorno dopo giorno poi si migliorano le cose tecniche, però se non c'è atteggiamento, se non c'è determinazione, su quello non si può allenare, insomma. Quindi è bello che questa squadra ce l'abbia di suo, insomma, sono contenta. Due vittorie di fila che cancellano le prime due sconfitte di inizio stagione. Si dice sempre che quando si vince si lavora anche meglio, sicuramente questo è vero perché il morale sicuramente adesso è diverso rispetto a 15 giorni fa. Certo, cioè le vittorie portano vittorie, insomma, perché lavorare col buon umore è sempre più semplice, le cose vengono meglio e piano piano si forma un gruppo, come stiamo vedendo comunque in queste partite, quindi sono positiva anche per il futuro.